La malattia mi ha portato via tutto, ma non voglio smettere di vivere, ho paura, ma non mi arrendo. La disperazione, il coraggio, la rabbia e la forza di una ragazza che ha deciso di affidare a Facebook il diario della sua malattia. Sono parole, foto, esami clinici e commenti tra la confessione e la confidenza, quotidianamente postati per condividere un dolore e cercare anche nelle parole degli altri lo stimolo a non arrendersi. Giorgia Libero scrive dall'Unità Operativa di Ematologia e Immunologia Clinica di Padova, così si legge anche sul suo profilo. In poche settimane il suo grido di sopravvivenza ha raggiunto oltre 26.000 follower e il suo pubblico le dà coraggio a non mollare, scrivono le persone che la seguono. Giorgia posta le foto del fidanzato, del suo compleanno e del suo cucciolo. Scrive no amore mio, non ti abbandonerei mai, ti lascio sei mesi con la speranza di poter stare con te tutto il resto della nostra vita. Nell'ultimo video la ragazza mostra anche l'anello che il fidanzato le ha regalato. Il video ha raggiunto più di 8.000 persone. Giorgia ha solo 23 anni e dal suo letto di ospedale sta regalando al mondo una lezione importantissima, che la malattia non ci porta via la dignità e che la vita che scorre nelle vene deve essere vissuta in tutta la sua pienezza e può esserlo davvero soltanto se condivisa con gli altri.